i cristalli, la cabalà ebraica, la mitologia nordica, lo sciamanesimo, la magia egizia, il sufismo, il buddismo, l'induismo, l'iching, lo zen, il taoismo, lo yoga, l'antroposofia, la controcultura, la massoneria, la geografia sacra, il pitagorismo, l'alchimia, la teosofia, le rune, la stregoneria, la wicca, la romanità, i miti greci, la magia cerimoniale, il telema, l'ognosticismo, i tarocchi. Ogni scaffale della libreria esoterica il sigillo è un'isola e il sigillo è l'arcipelago in cui potete naufragare. Grazie. 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 Grazie.